Alessandro, qua. Arrivederci. Da Curi, Lynch, Bibianchi. Ah no, questo è mio. Distribuisco subito i microfoni così non mi sbaglio dopo. Buonasera, grazie. Allora, chiamo subito i due autori con i quali parleremo questa sera, cominciando appunto da Paul Lynch, insieme con Joanna Weber, che avete conosciuto stamattina e che comunque sarà la sua interprete questa sera. Paul è arrivato dall'Irlanda poche ore fa al termine di un viaggio che gli avrebbe permesso anche di arrivare da più lontano, in realtà se fate il conto delle ore. È l'autore di Cielo Rosso al mattino, tradotto da Riccardo Michelucci per 67 Seconds ed è, come annunciava prima Marcello, una scoperta che non solo al Festival, ma anche io personalmente vi invito a fare. Matteo Bibianchi invece è l'autore di Maria Canto, pubblicata da Fandango. Matteo lo avete conosciuto già in questi giorni. Io dico proprio due parole brevissime di introduzione perché è un po' una caratteristica di Gavoi avvicinare, accostare libri, come dire, che al primo colpo d'occhio apparterebbero a famiglie anche diverse. Però il titolo di questa sera, Vicini e lontani, personalmente non l'ho scelto io, però è un titolo che trovo bellissimo perché credo che l'esperienza della lettura, l'esperienza anche delle comunità che nascono dalla lettura, abbia tra le sue caratteristiche proprio questa, di andare oltre l'evidenza, di andare oltre l'ovvio e di aiutarci a capire che cosa c'è di vicino tra esperienze, libri, realtà che sembrano lontani e che cosa invece differenzia, che cosa allontana storie che sembrano altrimenti vicine. Credo che questa capacità di attenzione, questa capacità di distinzione sia uno dei grandi privilegi che la lettura può ancora accordarci, oltre a quello di essere così in tanti questa sera a parlare di due libri. Vicini e lontani come mai? Perché il libro di Paul Lynch è ambientato in un'Irlanda del XIX secolo brutale nei suoi rapporti di forza, un paese in sostanza ancora feudale dal quale si deve fuggire a un certo punto e si fugge verso un'America che viene presentata come terra promessa e molte volte le terre promesse non mantengono le promesse che fanno, appunto. È una storia di vendetta, è una storia di inseguimento, è un western metafisico e al contrario il libro di Matteo, Maria Canto, è ambientato nei nostri anni, addirittura potrebbe essere ambientato nei nostri giorni in una Milano estremamente brillante, anche, come dire, dolcemente spregiudicata, diciamo, non trasgressiva, però insomma. Ecco, la sfida di questa sera è capire quanto ci riguarda della storia che racconta Pollinci, che è una storia che è apparentemente lontana, e quanto invece c'è di inatteso, di sorprendente nella storia che racconta Matteo in Maria Canto. Iniziamo da Pollinci, partiamo da lontano, ma vedrete che in realtà è vicinissimo e non soltanto perché di due isole, stiamo parlando, oltretutto lui ha fatto tutto il giro d'Europa per arrivare da un'isola in un'altra isola, e già questo avrebbe una sua parte romanzesca da esplorare. Io chiedevo per prima cosa a Pollinci, lo chiederò poi anche a Matteo Bibianchi, di dirci qualcosa dei luoghi, perché vicino e lontano si applica a tante categorie, ma alzitutto si applica a una categoria di luogo. Quindi di raccontarci qualcosa del luogo in cui la storia inizia, che è l'Irlanda, del luogo attraverso il quale la storia si sposta, che è il mare, che è il viaggio per nave, la seconda parte del libro, e il luogo al quale si arriva, che è questa America appunto così imprevista per questi migranti che arrivano dall'Irlanda, convinti di trovare un mondo dove tutto è facile e buon mercato e dove invece ogni respiro si paga con la fatica. Buonasera, anche voi. Grande inizio, grande inizio. So, that was a long question. Where do I begin? I'll get shorter with the answer. So, you talk about places. I come from Donegal in northern, north, the very top of Ireland, where it's a very old landscape. It's full of ancient boglands and mountains. And it's a place where, as a child, I hated, I felt trapped, and I couldn't wait to get away from it. Dunque, la domanda è molto lunga. Dunque, cominciamo dai luoghi. Il luogo dove inizia questa storia è il luogo da cui io provengo, dove io sono nato, il Donegal, che si trova proprio nella punta più settentrionale dell'Irlanda. è un luogo dai paesaggi molto scabrosi, quasi, insomma, terreni paludosi, montagne, un posto molto chiuso, che da bambino io odiavo. E da questo posto volevo uscire il prima possibile. It's the type of beautiful Irish landscape that Italian people travel to Ireland to see. E' proprio quel tipo di splendido paesaggio irlandese che i turisti italiani vanno in Irlanda per cercare di scoprire. E io invece volevo allontanarmene il più velocemente possibile. But when I started to write, and to write seriously, I found that I could not escape Donegal. I could not escape the place where I grew up. And so, the soul of Donegal started to come out in what I wrote. Dunque, ma quando io ho cominciato a scrivere, ho scoperto subito che, per quanto volessi allontanarmi da questo luogo, che non mi piaceva, fuggire da questo luogo era assolutamente impossibile. Donegal era dentro di me, l'anima di Donegal era dentro di me, e da lì non potevo scappare. The Donegal that I hated as a child and a teenager became transformed into this mythic landscape, this place of great silence, of vastness, and it seemed to become the perfect place to write a story in the 19th century where a man is haunted out of the the small the small town that he comes from. E, dunque, questo posto che quando ero, che conoscevo, insomma, che non mi piaceva quando ero bambino, quando ero adolescente, cominciò a trasformarsi man mano che io cominciavo a scrivere in un luogo mitico, un luogo fatto di silenzi, di vaste distanze, e, insomma, il set perfetto per collocarci una storia che avveniva nell'Ottocento, la storia di un uomo perseguitato che deve scappare da dove si trova. Allora, grazie, Paul. Milano, anzi, bisogna dirla Milano per essere proprio chiari, è proprio quella cosa lì, insomma, quindi la Milano dei navigli, degli ipermercati, degli aperitivi e via dicendo. Chiederei a Matteo di raccontare un po' di questo, introducendo, perché nel tuo caso bisogna essere un pochino più espliciti, nel caso di Pollincia abbiamo detto che c'è una caccia, l'uomo, che c'è una vendetta, nel tuo caso avviene una cosa che subito ce l'allontana un po', ce la rende più misterioso questo paesaggio, perché in questa Milano assolutamente nei nostri giorni, assolutamente, come dire, conoscibile, ecco, diciamo, succede un episodio a una ragazza che si chiama Betty, che non è neanche, ha 25 anni, quindi insomma è anche una giovane donna ormai, le succede una cosa curiosa, inspiegabile, le appare la Madonna. E le appare la Madonna in una forma del tutto amichevole, in una forma del tutto, come ti è venuto in mente di complicare il paesaggio urbano che è già un po' complicato di suo, tutti e due viviamo a Milano, quindi parliamo per esperienza, con questa apparizione, con questo colpo di scena. Buonasera Gavoi, per non essere da meno, intanto. No, allora, in realtà, io devo dire che ho un rapporto molto ambivalente con Milano, io spesso dicevo che vivevo a Milano e non mi piaceva, adesso devo dire che negli ultimi anni Milano ha fatto un restyling totale e anche per chi ci vive è una città che sembra un'altra, nel senso che per la prima volta in questi ultimi anni quando viene uno straniero a trovarti tu sai dove portarlo, ci sono dei posti belli da vedere, è tutto molto nuovo. E quindi si prestava ancora di più per questa storia, che è la storia appunto di una ragazza qualsiasi a cui appare la Madonna apparentemente per nessun motivo. In realtà Maria le spiegherà che è lì in visita privata, cioè quindi non è un'apparizione della Madonna classica, quella che è venuta a rivelare un segreto, a mandare un messaggio all'umanità, no, una visita privata sua perché vuole vedere come vivono le ragazze di oggi. Il libro si chiama Maria Accanto appunto perché Maria starà accanto a Betty nelle sue varie fasi mentre va a fare shopping, mentre fa bere con gli amici, eccetera, come presenza un po' ingombrante, un po'. Però, e quindi per questo motivo una città così nuova, così in evoluzione, così in cambiamento si prestava moltissimo a queste scene che sono scene del tutto quotidiane. Cioè, Betty per prima cosa porta Maria da H&M, che è una scelta un po' curiosa, mi rendo conto. però se la porta insomma in primo tempo Betty deve intanto rispondere a questa domanda sono pazza perché quando le appare la Madonna dice beh non è possibile poi quando si abitua al fatto che veramente quella la Madonna veramente le è apparsa la Madonna insiste fa le cose normali che fai tu e lei le fa le cose normali e le cose normali che fa lei sono queste e quindi deve ha dei dubbi continui perché in effetti mentre sta andando a H&M dice ma cosa sto facendo non posso portare la Madonna a H&M quindi torna indietro e lei insiste no no andiamo allora vanno da H&M cioè è un po' tutto questo meccanismo attraverso il quale Betty che fa una vita molto ordinaria molto normale cominciano a mettere in discussione praticamente tutto quello che fa lei perché la Madonna non lo mette in discussione mai ecco questo rapporto con la città questo rapporto con questa presenza assolutamente assolutamente come dire imprevista che diventa a sua volta quotidiana in realtà per poi piano piano perché poi c'è una cosa deliziosa cioè a un certo punto secondo me Betty si spaventa sempre ogni volta che per quanto abituata all'idea però mandami un messaggino prima quindi le arriva un messaggino sul telefono e la cosa è vorrei precisare una cosa perché in tutto questo nelle 200 non c'è nulla di riverente cioè assolutamente è una cosa di una delicatezza oltre però a questo legame appunto con questa visitatrice molto imprevista nel libro sono molto importanti i rapporti che Betty ha con le altre persone e sono quasi tutti sono principalmente rapporti di amicizia cioè l'amicizia in realtà nel libro ha un ruolo quasi più più importante direi dell'amore ecco ci racconti un po' questa scelta perché comunque è una scelta molto bella anche questa dal punto di vista narrativo si è un libro sull'amicizia assolutamente l'amicizia improbabile tra la madonna e una ragazza di oggi e a sua volta l'amicizia di Betty con le persone che ha intorno il suo migliore amico la sua migliore amica i ragazzi o le ragazze con cui esce di solito eccetera rapporti che vengono molto influenzati dalla presenza di Maria che solo Betty può vedere chiaramente però che cambieranno moltissimo il suo modo di comportarsi cioè Betty avrà vergogna non vergogna ma si metterà molti problemi ad uscire con gli amici avendo a fianco la madonna e quindi questa cosa crea gli amici cominciano a pensare che lei sia un po' pazza perché comincia a avere delle reazioni assurde se due si baciano o cose del genere dice cosa fate cose così quindi questo modifica molto anche tutti i rapporti che ha intorno e anche il rapporto tra Betty e Maria che all'inizio è raccontato in chiave molto ironica poi subisce anche un'evoluzione che non è un'evoluzione semplice però ti dico la verità da scrittore la cosa più perché mi chiedono sempre ma come ti è venuta questa idea della madonna non lo so come mi è venuta questa idea della madonna francamente però non ho proprio la più vaga idea però la cosa difficile non era tanto raccontare la madonna ma dal momento che io racconto cioè una volta passata questa come dire questo presupposto surreale che la madonna appare per non far niente essere solo lì presente poi la cosa difficile raccontare è l'amicizia nelle sue aspetti più normali perché le vere amicizie non hanno niente di eccezionale le vere amicizie sono appunto fatte da persone con cui stai bene quando fai le cose di tutti i giorni e le cose di tutti i giorni di raccontare sono noiose e io ho dovuto come dire non spaventarmi del fatto che stavo raccontando tante cose noiose perché dovevo raccontare questo tipo di rapporto qua e quando le cose poi nel libro diventano difficili diventano drammatiche è quella prova che si chiede alle amicizie vere cioè le amicizie vere riescono a essere tali quando le cose vanno bene o quando le cose vanno malissimo è un po' questo che racconta il libro grazie tra l'altro non so se Matteo se ne è reso conto ma c'è tutta una tradizione di questi racconti in realtà c'è per esempio un piccolo testo di Anatole Franz che forse qualcuno dei più giovani come me avrà visto sotto Natale in un cartone animato che girava molto il giocoliere di Maria lo jongler de Marie che è proprio la storia di un fratino imbranatissimo di un ragazzotto non particolarmente che è bravo soltanto a fare il giocoliere allora lui va davanti al quadro del convento della Madonna e diventa amico della Madonna non portando a De Gede anche per i frati ha un problema anche oggi però insomma invece intrattenendola in questo modo allo stesso modo una cosa che impressiona un po' il lettore italiano Paul Lynch non lo può sapere ovviamente è che l'inizio della sua storia proprio il punto di partenza ricorda tantissimo l'inizio dell'albero degli zoccoli ve lo ricordate il capolavoro di Ermanno Olmi una famiglia povera di contadini che viene cacciata di casa per una punizione spropositata poi nel corso del libro si capisce anche dove sta l'offesa da cui è partita questa 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 punizione terribile di privare della terra che è chi può soltanto coltivare la terra ma vi ricordate che nell'albero degli zoccoli c'era un'accettazione manzoniana della sventura nel libro di Paul c'è la ribellione una ribellione che va al di là delle intenzioni del protagonista che è questo che è questo Colcoyle che è poi il fuggiasco che attraversa il mondo che arriva in America però insomma Colcoyle diventa nemico di qualcuno tanto l'amicizia è il sentimento portante diciamo del libro di Matteo quanto l'inimicizia è uno dei motori del il motore principale anzi del racconto del racconto di Paul Leach vorrei che ci dicesse qualcosa di questo perché non è che poi Colcoyle non abbia amici nel suo viaggio eccetera però senz'altro ha un nemico quel nemico continua a perseguitarlo continua a cercarlo letteralmente in capo al mondo ed è questo che rende la lettura così ossessiva così emozionante così affascinante in questo libro at the start of the story Colcoyle goes to meet the son of a landlord to resolve a dispute and he ends up killing him and thus the fates of everybody in the book changes at this moment il punto iniziale del mio libro della storia che in questo libro racconto è quando il protagonista che è un mezzadro va dal proprietario della sua terra per cercare di risolvere una controversia che ha a che fare per l'appunto con con la mezzadria con il loro rapporto di lavoro diciamo questo incontro diventa violento insomma degenera nel peggior modo possibile e Colcoyle finisce per uccidere quest'uomo e questo naturalmente cambia in un istante il destino e la vita di tutte le persone coinvolte so si parlano i suoi pensieri, e a volte si sono pessimistiche, magari un po' nihilistiche. In alcuni aspetti è un po' un po' un po' un po' un po' un po' un villaggio di 19th century gothic. Viene inseguito non tanto dalle autorità, come si potrebbe aspettare, come lui stesso si aspetta, ma da un individuo, un individuo che si chiama Fowler e che è il capo della casa del proprietario terriero, l'uomo di fiducia di questo proprietario, il cui figlio lui ha ucciso. Questo Fowler è una personalità assolutamente implacabile, inamovibile, ossessivamente dedicato all'inseguimento di quest'uomo che ha ucciso il suo padrone. È anche una persona, è anche un uomo che pensa ad alta voce molto spesso e nelle sue lucubrazioni si esprime sempre delle idee molto pessimistiche, molto basate anche sulla vendetta, sull'idea di dover in qualche modo braccare e trovare quest'uomo che si mette ad inseguire. E quindi Cull è fuori da l'Irelande, da questo personaggio che si chiama Fowler. E quando scrivo questo libro, in la parte mia mente sempre è stato il fatto che tutti questi ricercatori, di nuovo, ora, stanno fuori da l'Irelande, stanno fuori da l'Irelande, stanno fuori da l'Irelande perché dei problemi economici in l'Irelande. Dunque, Cull viene fatto scappare, costretto a lasciare il suo paese, costretto a lasciare l'Irelande. E mentre scrivevo, ho cominciato a pensare al rapporto che questa storia poteva avere con il momento attuale, il momento che stavamo vivendo mentre io scrivevo. Di nuovo, molti irlandesi si trovavano nella situazione, nella necessità di lasciare il loro paese, il nostro paese, l'Irlanda, perché non potevano più rimanere a causa di grosse e molto gravi difficoltà, soprattutto di tipo economico. My generation were told that we would never have to leave Ireland. We were the ones who would escape emigration. And what happened in 2009 was the Irish economy collapsed and huge amounts of young Irish people were being forced to leave the country again. And so as I was writing this book, I was thinking about this. and I was trying to create a new mythology for my generation to try and understand what was happening now. La mia generazione di irlandesi ha vissuto sempre assolutamente convinta di non dover mai trovarsi a lasciare l'Irlanda. Ci era stato detto, e ne eravamo convinti, che la nostra generazione sarebbe sfuggita al bisogno di emigrare, che questo non ci avrebbe mai toccati. Eravamo lì per restare, poi nel 2009 c'è stata la spaventosa crisi che ha fatto collassare l'economia irlandese e tantissimi, ma veramente tanti, giovani, coppie, singoli hanno dovuto lasciare il paese e riprendere la via dell'immigrazione. Per cui io, quando mi sono messo a scrivere questo romanzo, ho tentato di creare in un certo senso una nuova mitologia, una nuova mitologia dell'immigrazione per la mia generazione. Pollinci ci ha già spiegato, con quello che raccontava adesso, perché questa lontananza c'è così vicina. Vorrei però chiedergli di tornare un attimo su questo personaggio di Fuller, che è il grande personaggio del libro, che è mosso da una sete di vendette, da un desiderio di esercitare la violenza, che anche questo ci ricorda qualcosa del presente o almeno del passato prossimo. Perché l'aspetto affascinante, terribile, del personaggio è quello che accennava già prima Pollinci. Pensa a voce alta. Chi pensa in questa storia è soltanto Fuller. E ogni volta che pensa trova un buon motivo per fare quello che fa. Io vi leggo quello che probabilmente è il brano più rivelatore da questo punto di vista, anche perché questo aspetto speculativo, questo aspetto di giustificare se stesso di Fuller, noi lo scopriamo con il tempo. Siamo già in America, sono arrivati vicinissimi Fuller e Maken, che è il suo braccio destro, a catturare Cole. Non ce l'hanno fatta. Due prostitute che erano in qualche maniera coinvolte nell'inseguimento sono state uccise a sangue freddo da Fuller. Da Fuller e Maken con il dovuto rispetto e con la prudenza del caso prova a dire che forse non era il caso di ammazzare le due ragazze. E Fuller gli risponde così. Il peso. Credo sia quello il problema. Eh? Intendo dire che il problema è quello del peso. Pensaci un attimo. Maken gli lanciò uno sguardo perplesso. Un bambino vive al caldo, nel ventre della madre, senza avere alcun peso. Poi viene al mondo, non è altro che una piccola creatura, pianocolosa, come un animale. Non ti ha mai stupito questa cosa, Maken? Ti sei chiesto qual è il motivo. Perché si percepisce per la prima volta. Perché scopre di avere un peso nel mondo e una simile scoperta è un trauma per lui. Non riuscirà mai a farsi una ragione. Insieme al peso arrivano le sensazioni, il dolore, la fame, il bisogno di dormire e un'infinità di desideri e necessità. E cosa c'entra? Questo, con tutto il resto, chiede Maken. Vedi, il bambino non riuscirà a riprendersi della sofferenza del suo peso. Man mano che cresce, i suoi bisogni non cessano di moltiplicarsi sempre di più, mai di meno. Sviluppa un appetito insaziabile per le cose. Prova a dare una minestra, un affamato, lui vorrà la carne. E quando l'avrà ottenuta, si siederà alla tua tavola e ti chiederà l'argenteria. Pensaci bene. Ogni desiderio soddisfatto ne porta uno nuovo. Diventa una tortura. Un desiderio illimitato e insaziabile. Foller fece avanzare il cavallo e Maken cavalcò accanto a lui. Il suo viso perplesso si rilassò all'improvviso. Si tratta pur sempre di persone, disse. Ascoltami bene, Maken. Le persone non sono esseri umani. Sono bestie, bruti, ciechi e idioti, dominati da desideri senza limiti di cui non conoscono neanche l'origine. E gli orpelli con i quali ricopriamo tutto ciò per avere la coscienza a posto non sono altro che illusioni. Il tributo che si versa alla vita è il fardello del nostro stesso peso e alcune persone stanno meglio se ne sono sollevate. Ha trovato un buon motivo per fare la cosa peggiore. Volevo che ci dicesse ancora qualcosa Paul Lynch di questo straordinario assassino filosofo. Votodorov diceva che tutti i drammi del Novecento sono state prodotte da persone sicure di fare il bene e di portare a un mondo migliore. Vorrei che ci dicesse qualcosa di questo. che ci dicesse che ci dicesse che ci dicesse Col Col in this book he's like every one of us he wants to live he wants to get back to his family his life is meaningful and he will do whatever he can in this book to survive but nature which is what he's up against in this book is enormous and indifferent and then he's also up against something else which is the dark side of human nature of which I'll talk about dunque se ci pensate un momento Col Col che è la ragione per cui tutto questo tutto questo succede è una persona come tutti noi cioè che vuole le stesse semplici cose che vogliamo noi lui vuole vivere, continuare a vivere vuole ritrovare la sua famiglia e lo scopo fondamentale che lui si pone in tutta questa storia è quello di sopravvivere però 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 il nemico l'avversario con cui si deve confrontare è la la natura e la natura è immane è enorme ed è anche indifferente e oltre a questa natura enorme ed indifferente si trova il nostro personaggio a dover affrontare anche una cosa anche peggiore cioè il lato più oscuro della natura umana è il forte devoratore della weak il forte dispossess della weak e è così il mondo è e faller è parte di questo meccanismo di potere fino a che si del male razionale della malvagità razionale e ragionata e se ci pensiamo un attimo il nostro ventesimo secolo è assolutamente pervaso da questa specie di terrore ideologico fa parte della nostra della nostra della nostra vita ci sono tanti avvenimenti di questo tipo che ci sembra quasi di essere trasportati in una storia antica che pensavamo fosse superata e finita una storia la storia di sempre dove i forti tolgono ogni bene ai più deboli dove c'è una totale sopraffazione dei forti dei più forti verso i più deboli ed è così perché è così che va il mondo è così che le cose succedono e faller sa di avere nelle sue mani tutto questo potere fino al momento in cui si rende conto che forse così non è se in cielo rosso il mattino il pensatore è l'assassino insomma quindi con anche una svolta davvero imprevista rispetto a quello che pensiamo Betti suo malgrado in Maria Accanto diventa una pensatrice cioè deve iniziare a pensare alle cose che fa deve pensare anche alle parole che dice per paracondicio una paginetta anche da anche da Maria Accanto siamo già a pagina oltre pagina 150 quindi dovrebbe essersi abituata a questa cosa la ragazza di avere questa amica un po' particolare e questo è il suo tentativo di rispolverare la sua memoria religiosa Ave Maria piena di grazia il Signore con te benedetto il frutto tuo no tu sei benedetta fra tutte le donne no no non era questo l'ordine Betti lanciata su un vagone della linea rossa della metropolitana per i non milanesi in direzione Sesto Marelli cerca di ricordare le parole dell'Ave Maria e si rende conto di non ricordarle più possibile una preghiera ripetuta così tante volte da bambina un numero infinito di volte ridotta a frammenti a frasi sparse senza senso è un problema di memoria lei non è mai stata brava a imparare le cose a memoria probabilmente non è in grado di rievocare neppure le canzoncine che cantavano a scuola le poesiole sciocche che l'avevano insegnato tipo la vispa Teresa ci prova la vispa Teresa vea tra l'erbetta volo sorpresa gentil farfalletta e tutta giuriva stringendo la viva gridava distesa l'ho presa l'ho presa beh in effetti questa se la ricorda no dai non può essere deve sforzarsi di più Ave Maria piena di grazie il Signore è con te tu sei benedetta fra tutte le donne benedetta il frutto tuo no è benedetta il frutto del seno tuo Gesù ah ecco era così Ave Maria piena di grazie il Signore è con te tu sei benedetta fra tutte le donne benedetta il frutto del seno tuo Gesù e poi come continuava inizia a pensare è un po' di tempo che non pensa voglio dire è un po' di tempo che fa le cose che vanno fatte l'aperitivo con le amiche uscire col fidanzato eccetera eccetera e questa come dire irruzione di quello che potrebbe essere l'elemento più irrazionale possibile nella sua vita la riabitua invece a pensare a riscoprire qualcosa del passato a ritrovare le parole ci dici qualcosa di questo sì allora questo malgrado questo libro malgrado abbia per protagonista la Madonna non è un libro di redenzione cioè non è un libro nel quale c'è un percorso spirituale nel senso perlomeno non è esplicito cioè il gioco che io ho fatto è appunto quello di togliere alla Madonna quello che sono i suoi aspetti appunto dogmatici e portarla invece in una situazione completamente terrena e quindi giocare tutto sul piano dei rapporti umani e nei rapporti umani non può essere inevitabile che ci si influenza l'un l'altro e quindi dal momento che Betty ha questo compito di portare in giro Maria anche se Maria le dice stai tranquilla fai le cose che fai normalmente lei comincia a mettere in dubbio tutto quello che fa perché in effetti c'è una scena in cui lei si mette a guardare in una folla Betty e lei sembra che quasi chiunque sia più interessante di lei e allora la presenza di Maria comporta il fatto che lei si metta in discussione per la prima volta si vede con occhio esterno ed è un meccanismo che appunto che attua a lei che non le viene richiesto da Maria però c'è una frase appunto che ho messo come retro di copertina che è siamo tutte ragazze qualsiasi sono le esperienze a renderci speciali perché è un po' secondo me il senso del libro cioè siamo tutte ragazze qualsiasi poi quello che ci capita che ci cambia e non è una come dire una lezione di ordine spirituale è proprio una lezione di ordine umano è anche spirituale ma in questo caso è proprio virata sull'esperienza più umana possibile non bisogna fidarsi degli scrittori perché se arrivate in fondo in realtà c'è tutta una cosa che è molto più che umana e spirituale ma del resto se uno fosse sincero non farebbe lo scrittore cioè questo è il punto di partenza almeno non farebbe non farebbe il narratore per chiudere poi magari se c'è una domanda o due oppure siamo nelle mani di Marcello Foix facciamo quello che ci dice lui volevo chiedere una cosa un po' in questa direzione anche a Paul Lynch se c'è una terra cattolica è l'Irlanda volutamente lo ha già detto mentre preparavamo un attimo l'incontro lui non ha voluto e lo era perlomeno used to be nell'ottocento un po' di cattolicesimo ce lo aspetteremo mentre invece è molto lontano c'è qualche accenno eccetera però in realtà quello che accade ai personaggi è comunque un confrontarsi con un assoluto è comunque l'affrontarsi con delle forze invisibili che sono in parte la natura ma su questo noi abbiamo il nostro Leopardi che cosa è la natura ne avrebbe un sacco da dire volevo chiedergli appunto un po' di questo aspetto tutti e due i personaggi alla fine sia Cole Coil sia Fuller si confrontano sono convinti di decidere per sé il loro destino e poi si confrontano invece con un destino che decide al posto loro vuol dirci qualcosa di questo che si trattano che si trattano in un mondo che si trattano che è molto più che ci trattano e questo mondo ha strutture di potere e si diventano caught up in that, molto come le nostre nostre vidi, dove i nostri individuali sono trattati da le forze geopolitiche che non abbiamo controllo. Questo è qualcosa che è a lavoro in questo libro. C'è una specie di agente intermediatore che è sempre presente in questo libro, in questa storia. I personaggi si muovono secondo il loro libero arbitrio, hanno una propria volontà, prendono determinate decisioni e affrontano le conseguenze di queste decisioni che prendono o quantomeno risultati di queste decisioni. però c'è sempre questo grosso però tutto questo succede il loro esercizio del libero arbitrio e le loro decisioni all'interno di un mondo che è molto più grande di loro che li costringe ad agire ad agire all'interno di strutture soprattutto strutture di potere che loro non riescono neanche ad immaginare che vanno estremamente al di là di quelle che sono le loro possibilità e le loro forze e questo un po' è quello che succede a noi all'unico di noi nelle nostre nelle nostre vita cioè noi prendiamo delle decisioni viviamo le nostre vite individuali all'interno di una situazione geopolitica sulla quale in realtà non abbiamo alcun controllo però vorrei aggiungere e precisare che c'è molto poco cattolicesimo praticamente nulla di cattolicesimo nel mio nel mio libro e non c'è neanche un signore che suona il violino seduto all'angolo insomma non ci sono non c'è nessuno di tutti quei cliché di tutti quei luoghi comuni sull'Irlanda soprattutto sull'Irlanda dell'Ottocento di cui è piena la letteratura e di cui tutti tutti sappiamo insomma di tutto questo ho fatto l'impossibile per liberarmi c'è qualcuno che vuol chiedere qualcosa se no c'è una bonus track di Matteo Bibianchi che voleva dare una spiegazione però voi potete anche chiedere se volete se non volete chiedere cioè bonus track bonus track cioè lui mi ha detto lo rivelo così tra amici chiedimi di spiegare la dedica perché la dedica del libro è per Miro Anna Maria virgolette aperte per compensare virgolette chiusa è una citazione che infatti mi chiedono perché è incomprensibile ma a dire la verità avendo scritto un libro del genere è stato molto attento a non essere mai provocatorio o niente eccetera però per mettermi a pari io l'ho dedicato a Miro Anna Maria che sono mio zio prete e mia zio suora per compensare in modo tale che abbia bilanciato e volevo anche spiegare che questo deriva da una frase che mi diceva mio padre perché quando ero bambino e mi portavano in chiesa mia mamma portava me e mia sorella in chiesa mio padre non veniva mai e io dicevo ma scusa ma perché tu non vieni in chiesa proprio tu che hai un fratello prete e una sorella suora lui mi diceva per compensare allora io adattando questa cosa ho deciso di usarla come identica del libro grazie adesso notate che il cliché della zia suora è un cliché molto eh che c'è il forte sospetto che la zia suora sia la zia di Amosotz però questo è tutto un altro discorso per chi era prima con Magrelli bene e il Mirto ci aspetta quindi loro sono qua e il come dire i libri sono là loro firmeranno tutti i libri che volete e mamma in giro per per Gavoi quindi buon Mirto e poi a domani con con grande gioia grazie grazie Grazie.